Un saluto dal Tg della Mobilità, sono in corso i lavori di riqualificazione in via di Torbellamona che al cantiere iniziato a marzo ha un costo di 3 milioni di euro di fondi del giubileo. Le lavorazioni attuali completano ed integrano il precedente stralcio dei lavori e interessano la tratta per circa 3 chilometri da via Casilina al Gra in entrambi i sensi di marcia. È previsto che gli interventi siano effettuati in orario di urno e notturno per appreviare il più possibile i tempi di esecuzione. In particolare viene realizzata la riqualificazione del manto stadale, la sistemazione delle griglie ostruite, dei chiusini e delle caditoie, la rimessa in quota dei tombini dissestati, il rifacimento della segnaletica orizzontale, lo sfalcio del verde infestante e saranno realizzati anche gli scivoli mancanti sui marciapiedi. Il termine dei lavori è previsto entro luglio del 2024 e tutto appuntamento alla prossima edizione.